Questo libro è la storia di una ricerca di guarigione e, come tutte le guarigioni, capita perché ce n'è un bisogno abbastanza urgente e disperato, ma come tutte le guarigioni non sempre si sa da dove cominciare a cercarla. Come tutte le guarigioni può avere degli esiti diversi, la si può trovare e non si può trovare. Ci sono due personaggi in questo libro che insieme partono con questo obiettivo, non subito consapevole, ma via via sempre più chiaro e deciso. La loro partenza è di fatto un viaggio, perché cercare di guarire è anzitutto un viaggio. Il viaggio di questo libro è quello di un personaggio, di un uomo che si è rifugiato in un luogo sperduto della California, a un certo punto della sua vita. Un uomo ancora abbastanza giovane, ma che ritiene di averne avuta già abbastanza di vita e di sfortuna anche nella sua vita. Viene da un'Italia, da una Milano molto stanca e si è rifugiato laggiù dove crede di potersene stare tranquillo, indisturbato in qualche modo, perché è in questo luogo assolutamente remoto, dove non c'è altro che il suono dell'oceano e i versi dei rapaci e degli uccelli che volano nel cielo e la bellezza della natura. Ecco, però lì in qualche modo gli arriva una chiamata, che è la chiamata di un suo amico che lo raggiunge, che consapevolmente vuole andare in cerca di qualcosa di più, andare in cerca di questa guarigione, che sta da un'altra parte, sta laggiù nell'entroterra, nel deserto. E da questa chiamata, dalla necessità, un po' controvoglia all'inizio, di accompagnare questo amico che nasce il viaggio, la ricerca di guarigione. Abbiamo bisogno di spiritualità in qualche modo? Probabilmente sì, è quello che sente il protagonista di questo libro, che all'inizio della storia ha compiuto una fuga sostanzialmente, è scappato da un'Italia o da una Milano molto stanca, si è rifugiato in questa comunità di eremiti, in un luogo sperduto della California, dove la spiritualità è una cosa abbastanza vaga, diffusa, senza nome, perché lui non si identifica particolarmente in una religione, gli altri ospiti che capitano da quelle parti pure. E in qualche modo è la spiritualità del nostro tempo che è più un'inquietudine di fatto che una risposta vera e propria. Da lì, da questa comunità, da questo luogo bellissimo, spettacolare, colline, oceano, scogliere animali, uccelli. È da lì che però parte un ulteriore viaggio, perché questo protagonista viene raggiunto da un amico, il quale forse sembra ha le idee un po' più chiare all'inizio. Questo amico ha un problema preciso di umore, di depressione e lo vuole trascinare da un'altra parte, nell'entroterra, nel deserto, dove forse c'è questa famosa guarigione. E allora il protagonista, non molto volentieri all'inizio, però accetta questa chiamata e parte anche lui. Questi due protagonisti, questi due uomini, gli amici del titolo, si conoscono fin dal tempi del liceo, ne hanno passate un sacco insieme, avventure, illusioni, disillusioni. Si conoscono dai tempi in cui ci si registrava a vicenda la Musica 7, eppure si ritrovano ancora abbastanza giovani, ma in un mondo che è già totalmente diverso, alieno. Sono diversi, si vogliono bene, al tempo stesso riescono a darsi fastidio immensamente a vicenda, proprio perché hanno quel rapporto che accade a volte tra amici molto stretti, che è fatto di affetto e provocazione continua. Ed è un po' quella la dinamica del clima, la dinamica di tutto il libro, perché è un libro dove in ugual misura c'è l'affetto, un'intimità molto calda, ma anche molto conflitto. Da cos'è che bisogna guarire? Il problema del coprotagonista di questo libro è di essere depresso, depresso davvero, depresso clinico, che è un problema che riguarda molti personaggi, molte persone che sono state intorno al protagonista. È come se lui per qualche motivo nella sua vita si fosse sempre trovato e circondato da questa cappa depressiva, che non è solo la cappa depressiva di alcuni personaggi, è quella di un'intera società, di un intero momento storico, di un intero clima che ci circonda. E che alla fine corrisponde a una domanda, e la domanda è, ma là fuori c'è ancora qualcosa per cui vale la pena provarci? Finisce che lo scenario principale di questo libro, che comincia sull'oceano, invece si rivela essere il deserto, questo luogo secco, arido, senza orizzonte, questo luogo dove sembrano ci siano vie d'uscita. Allora è un deserto che ovviamente è un deserto assolutamente interiore, un deserto dell'anima, il deserto in cui queste due persone si trovano a questo punto della loro vita. Ma è un deserto che esiste, è lì, è il deserto della California, dell'Arizona, un deserto che mi è capitato di vedere abbastanza bene, ed è un deserto fatto di paesaggi spettacolari, un deserto fatto di autostrade, fatto di molto immaginario che conosciamo anche attraverso i film, insomma, è quel tipo di scenario che ci torna spesso, che è quasi un luogo comune di certe narrazioni, ma che loro attraversano quasi con una innocenza da neofiti, da vergini, come se nessuno prima di loro l'avesse mai attraversato. Ed è questo loro stupore, probabilmente, quello che io volevo cercare anche di rendere nel libro. Grazie a tutti.